Ciao ragazzi! Twigs! Bailey! Che strano! Di solito sono tutti qui fuori a lavorare! Ladra di pinne! Oh, siete voi! Scusate, che c'è? Ciao Briggs! Potete per favore aggiustarci l'altalena? Io sono quello dei mattoni! Dovrei chiedere aiuto a Bailey e Twigs, ma adesso non ci parliamo! Ma sono tuo fratello e tua sorella! Ti dispiace! Però, chissà cosa sarà successo! Beh, possiamo chiedere aiuto agli altri due porcellini! Ciao Twigs! Si è rotta l'altalena e Briggs ci ha detto di chiedere a te... Briggs! Io ho chiuso con Briggs e anche con Bailey! Ma loro sono tuoi fratelli! Non posso fare niente per voi! Speriamo che almeno Bailey ci aiuti! No, che non vi aiuto! Guardate qui! Il mio arrosto è rovinato ed è tutta colpa loro! Ha! 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 Triplo spottuto di porta! Però, mai visti così arrabbiati l'uno con l'altro? Beh, qui nessuno ci aggiusterà l'altalena! Avete visto i porcellini? Mi si è staccata la ruota e... Mi serve il loro aiuto! Eh, i porcellini hanno litigato fra loro! Così non aggiustano più niente a nessuno! Oh, davvero? Accidenti! Io devo portare il fiano al mercato! Tranquillo! Presto faranno la pace! Quei tre si adorano! Giusto? Non posso! Eh? Non oggi! Per favore! Eh? Eh, no! 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 Scusate! Svamp! Oh, caspita! Avete provato anche con questo? Non abbiamo chiesto! 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 Non riesco a credere! Non abbiamo chiesto! Non abbiamo chiesto! Questo è un guaglio per tutta la foresta! Siamo tutti d'accordo che è un disastro! Si sta rompendo tutto e i porcellini si rifiutano di aiutarci! Ma... Se riuscissimo a farli riparlare fra loro, credo che si riconcilierebbero! Sì! E così ricomincerebbero a ripararci le cose e tutto tornerebbe a posto! E me lo chiedi? Nella foresta va tutto a rotoli soltanto perché i tre porcellini hanno litigato! C'è da sbellicarsi! Ah, sì? Non rideresti se si fosse rotta una cosa di cui ti importa! Dove sono i porcellini? Il forno della nonna si è rotto e non può più fare le torte! Come? Le torte? Oh, hai detto niente torte! Oh, ma, 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 ma se lei non può farle, io... Io...